Dove ti trovi? Dove ti trovi? Guardate che macchinona tamarra che c'ha Marco Delveccio Piegaci questa cosa dalla Six Stars, cioè come è nata, chi ti ha chiamato? E' una manifestazione che ha fatto a Londra e c'è una squadra internazionale dove eleggevano un capitano per ogni nazione il capitano nostro era del Piero e del Piero si è iniziato a fare la squadra e mi ha chiamato Aspetta, mi sei anche arrivato il nostro paese Dove sei Alda? Il campione del mondo Non chiesto Mi ricordo sulle figurine Panini ogni anno ti facci i capelli gialli, il pizzetto verde E' vero, cambiato spesso Perché? Aldair è stato il mentore di tutti i giocatori che oggi si dipingono Dei giovani Esatto Io non ci credo che sto con Aldair Io ti devo abbracciare Aldair Pluto Aldair, Marco Delvecchio Volete palleggiare bs di me? Ok, vogliamo palleggiare bs di te 3 2 1 Via! 271 271 che non è male eh? Chiedo facile ragazzi 15 E invece Alda vi stupirà perché Alda è il numero uno Parola esante Alda ci sei? 3 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 3 E Sì Eccolo 2 3 2 3 2 3 7 7 7 8 8 9 10 11 10 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 16 Che cosa ti occupa? Ecco non mi ha cagato proprio Te ne vai? Ben andato! Ragazzi lasciatemi un bacio con un piacere Grazie